Sono io ad essere terrorizzato dalla polizia, in realtà mi trattano da terrorista. Non c'è nessuna prova, niente, nessun fondamento, ma in questa storia è la polizia che mi sta terrorizzando. The Belgian authorities assure us that these are isolated cases, however, we call on the Belgian authorities to thoroughly investigate these cases and to make public their findings and to inform the public how often they are receiving this kind of complaint related to counter-terrorism operations and what the outcome is. Mentre ti picchiavano ti facevano domande? No, mi insultavano. Che tipo di insulti? Beh, sporco arabo, terrorista, hai quello che ti meriti. Many of the people we spoke to were terrified to speak to us. Many gestures of reassurance, many people spoke to us on the condition of anonymity. Some people didn't want certain details, they gave us the details of the alleged abuse, but they did not want us to publish some of these details. Era bagnato per terra e all'inizio mi hanno fatto togliere le scarpe e sono rimasto solo con i calzini nella pioggia. Hanno preso il mio zaino, l'hanno aperto, hanno guardato dentro e sono stati molto scortesi. C'era uno di loro che mi ha preso dei biscotti che avevo nella tasca, me l'ha tirato e mi ha detto prendi la tua merda con te. Così è andata e mi hanno semplicemente lasciato lì. What we saw in Belgium is being replicated around Europe, and certainly Italy is among the countries that are adopting tough counterterrorism laws. We respect and understand and share the desire of governments, whether it's the Italian government, whether it's the Belgian government, the French government, to keep people safe. That is a responsibility of governments. However, there is a danger that overly broad measures can be abused and will target innocent people who are simply speaking their mind or going about their business or in the wrong place in the wrong time. I think that Italy has, Italy is not only a seasoned democracy, but it has a history with terrorism from the Red Brigades. And so I think, I hope that Italy will think carefully in implementing and enacting counterterrorism measures to ensure that there are not abuses. Nella cella c'era sangue dappertutto, il mio sangue, e non sono stato curato. Così sono rimasto lì, completamente nudo, tutta la notte. Ero in un angolo, nudo, senza nemmeno una coperta, né un cuscino, senza un materasso, semplicemente aspettando. Ero in un angolo, nudo, 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 nudo. Ero in un angolo, nudo, 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 n Grazie a tutti